ciao ragazzi oggi a piccettino vi mostriamo una cosa che ho preso in edicola un po a caso perché non l'avevo vista l'ho trovata in monocopia esposta nell'edicole della stazione di logore non l'avevo vista da altre parti quindi ho deciso di prenderla perché quando io vedo questa scritta mi si chiude la vena ok chi mi conosce lo sa io non sopporto guerre stellari per me i primi volui primi le primi film sono beautiful con le astronavi per quanto io adoro harrison ford infatti l'ho guardato solo per harrison ford ora badilatemi finché volete io sono un trek raccanito io adoro star trek per me la next capitano picard sono il pezzo di cuore c'è una ragione per cui dico che il primo nata never gigante è la storia di fantascienza fumetti di casa bonelli più bella che sia uscita nel nel corso di tutto la decade tra il 90 e il 2000 per me quella è la cosa più bella ma ha dei richiami fortissimi alla next io adoro la next e ho trovato questo numero uno star trek 4 euro e 50 sono tante pagine perché sono una sessantina di pagine abbondanti tutte a colori molto ben fatte in cui troviamo i romulani vulcaniani clingon troviamo data troviamo il troviamo picard in versione non ammiraglio ma in versione è diplomatico troviamo spock insomma troviamo un sacco di cose troviamo wharf troviamo la forge troviamo i personaggi della next disegnati a fumetti io non avevo mai guardato più di tanto i fumetti di star trek e qui invece ho deciso di farlo si chiama star trek countdown sono le prime tre puntate storie di roberto orci alex kurman autori mike johnson e tim johnson disegni david messina i colori giovanna nero giovanna nero scusate ed è tanta roba raga davvero tanta roba sono i primi tre capitoli di star trek countdown dopo di che ci sono le cover gallery e una postfazione ad opera di marcello rossi star trek italian club davvero una figata è stato bello io mi sono immerso a lettura me la sono divorata perché davvero va la pena non so se è fatto così di suo se è un'edizione speciale non ho informazioni le devo prendere perché ragazzi voglio anche il 2 che dovrebbe essere mensile quindi mi aspetto a dicembre di trovarlo perché davvero mi ha mi ha colpito mi è piaciuto tanto è una storia molto carina che si innesta nella lotta romulani vulcaniani che dovrebbe fare da tramite a quello che poi diventerà il film di abrams il primo film di star trek che nel nuovo corso con i vecchi personaggi il reprise reboot chiamatelo come volete e ragazzi tanta roba davvero tanta tanta roba io mi sono divertito un sacco a leggerlo bellissimo spock bellissimo picard bellissimo all'arrivo dell'enterprise i combattimenti c'è tutto quello che mi aspetto da una puntata gigante della next questa è una puntata della next generation davvero a me è piaciuto un sacco i disegni sono magnifici reali cioè nel senso io mi sono trovato proprio star trek leggendolo e mi ha colpito molto ora è un volume della rv edizioni della lion e io spero che con facilità si porti avanti e mi ho anche il resto perché io ora voglio proprio diventare lettore di questa saga perché mi sta piacendo poi adesso mi informerò un po meglio cercherò di trovare questo è un video fatto un po di getto ragazzi però davvero l'avventura c'è tre capitoli di una riduzione a fumetti di un già meglio di una pubblicazione a fumetti americana so che esistono i fumetti di star trek ma non li avevo mai approfonditi ma se sono così raga tanta roba davvero tanta roba spero che la rv mi porti qui la conclusione e anche magari altri collaterali visto che in giro online ho visti un sacco che però non ho mai approfondito ripeto ma se me li portano io penso che questa collana diventerà un appuntamento mensile ammesso che sia mensile dovrebbe esserlo ma ragazzi se lo trovate in giro fatevi fatevi traviare perché ne val davvero la pena questo è un marchio per me pezzo di cuore davvero fortissimo e spero davvero che anche per voi possa diventarlo la non utile dirvi che la costruzione mi piace a me gli spillati fatti così piacciono la cura mi sembra ottima 4 euro 50 per la fogliazione e la tipologia è perfetto io vi dico buttateci un occhio perché secondo me ne può valer la pena ricominciamo il viaggio è lunga vita e prosperità a tutti e mi raccomando mensilmente fatemelo uscire però è